In questo video faremo il test delle fontane assortite della Red Star. Red Star è l'importatore, fontane assortite è il nome di questo pacchetto di fontane, che contiene 6 pezzi. È un pacchetto da 6 pezzi, colice ISBN ok. Ecco qua dietro invece le specifiche tecniche categoria F2, 10 grammi per pezzo, 6 pezzi la confezione e quindi 60 grammi totali per la confezione. Internamente sembrano molto simili alle fontane Butterfly, che molti di voi conosceranno. Costruite però bene, guardate che bella questa copertura in carta velina, miccia bella dritta. Come fattura sembrano molto vicine in realtà a prodotti della Porco Nuovo. Stanno su belle dritte, belle alla base di plastica, belle solide, molto molto carine. Noi le abbiamo pagate fra il resto solo 3,79€, non è davvero tanto per un prodotto comunque che sembra di grande qualità. 10 grammi per pezzo, se sono costruite bene potrebbero funzionare davvero bene. Si presentano molto bene, quindi spero che saranno belle. Fra il resto noto, non so se l'avete notato anche voi ragazzi a video, che sono marcate con colori diversi. Queste due qua sono rosa e infatti avevano... erano SFT 104... No, il codice è lo stesso, però queste due sono rosa, queste due sono verdi e queste due sono blu. Ci saranno differenze? Io spero vivamente di sì, perché anche in questi piccoli assortimenti è sempre bello quando i produttori riescono a inserire un po' di varietà, un po' di differenza nel prodotto stesso. E quindi direi proprio che a test ne proveremo una rosa, una verde e una blu. Così avremo un overall del prodotto totale. Ma adesso andiamo in rampa di lancio e andiamo col test. Siamo con questa... Un po' simpatica. Ci sarà un colore... Sì, verde... Credo... Verde-rosso. Verde-rosso. Questa doveva essere... Questa aveva il colore blu. Non so, io non ho visto blu, però... Magari... Il colore sul pacchetto non c'entra niente. Andiamo con la seconda. Comunque dai, simpatiche. Nulla più né nulla meno che Fontane Butterfly. Mi sarà uguale, infatti. E in effetti questa è su altre tonalità. Questa era verde-giallo? E forse verde-giallo. In effetti c'è qualche differenza tra le varie Fontane. Interessante, dai. È una bella cosa, ragazzi. Forse giustifica quei 79 centesimi in più, non so. Ultima. Molto bella questa fiammata. Ah! È un terzo effetto. Beh, simpatiche queste Fontane, ragazzi. Alla fine prendete sei pezzi, tre effetti diversi. Due pezzi per ogni effetto. Molto simpatico. E in effetti è un valore aggiunto rispetto alle classiche Butterfly, che sono tutte uguali, tutte piatte. Qua invece avete della diversità molto interessante. Molto bene. Grazie a tutti.